fra i P Radio sono Chiara Nicoletti in compagnia di Pina Turco tra le protagoniste di Natale in Casa Pupiello di Edoardo De Angelis da un'opera dall'opera di Edoardo De Filippo che andrà in prima serata sul Rai 1 martedì ventidue dicembre bentornata su Fred. Bentornati a voi grazie grazie di esserci fedeli come sempre ma anche io sono fedelissima a voi. Allora ehm l'abbiamo eh detto spesso soprattutto per un'attrice napoletana il confronto con l'opera di Edoardo che per noi è come se fosse è Shakespeare ecco mi chiedevo con che sentimento che sentimento ti ha guidata? Timore rispetto libertà? Beh apprezzare l'opera di De Filippo come dire è a creano un certo timore la genialità del del maestro sta proprio in questo però che all'inizio ti crea un grande una grande un grande senso di di austerità quando puoi cominci a leggere l'opera e la penetri ti accorgi di quanto ti si avvicina e di quanto si avvicina proprio a ai ai sentimenti che più conosci e che lui maneggiava chiaramente benissimo con una maestria che era la sua ed è rimasta sua e basta. L'opera è un'opera immensa è un'opera che ha subito tantissimi maneggiamenti dagli anni 30 comincia a scrivere questo atto unico che fonda addirittura il trio De Filippo al curso all'attuale cinema filangeri e che lui rimaneggerà fino agli anni 70 quindi un'opera che ha subito tante mutazioni anche di sceneggiatura il cuore narrativo resta lo stesso però è tanto mutata e parla delle delle sue vere origini sono i genitori della sua mamma quindi Luca e Concetta erano i suoi veri nonni con i quali lui ha trascorso il Natale per tanti anni li ricorda con tenerezza li ricorda con amore e scrive quest'opera meravigliosa non ho mai avuto il dubbio di poter fare una ninuccia ingrata anzi io ho sempre pensato che potessi rendere omaggio a questo personaggio che lui adorava perché lui adorava scrivere personaggi femminili pensava sempre alla sua Luisella che era la sua figlia che era andata via e quindi nei personaggi femminili lui riassumeva quello che poteva ipotizzare potesse essere diventata sua figlia quindi ho sempre pensato che fosse un onore per me fare ninuccia in conferenza stampa l'hai detto è stato chiesto anche a Sergio Castellitto quanto fosse riuscito a non riferirsi all'idea di eduardo attore ma concentrarsi sul valore del testo ecco come sei riuscita a dare a dar vita a una ninuccia veramente diversa perfetta per per questa trasposizione cinematografica e allontanarti se for rispettandola da da quella che era stata di Lina Sastri e ci tenevo che ci fosse un personaggio un po' differente ci tenevo perché le interpretazioni di Lina Sastri l'ho amata così tanto che avevo paura poi di imitarla no ed era l'interpretazione che rimasta dentro che tutti conoscono e è anche più semplice per un'attrice come me che ha delle caratteristiche molto particolari no quindi è chiaro che io avrei approcciato al testo con le mie di caratteristiche che sono poi fortissime per cui non avevo la tentazione non ho mai avuto la tentazione di voler somigliare a qualcosa che non fosse giusto che io riprendessi e quindi ho tentato di rielaborare e dare le caratteristiche che io preferivo e che erano sono stati un po' i miei punti di forza e lasciare invece quella monumentale della signora Sastri come fosse in tonza proprio per proprio per rispettarla ancora di più era giusto che fosse così così come Sergio ha fatto quello stesso lavoro con Edoardo è stato allo stesso Castellitto che mi ha ispirato a fare quest'opera no il discernimento perché se no sarebbe stato un vorrei o un somiglio a e questa cosa non sarebbe stata rispettosa per nessuna delle tue opere si sono parlati e si è parlato di tanti sentimenti però oltre al nostalgia che voi avete già menzionato io ho visto sempre un po' di malinconia quella che accomuna almeno nella mia percezione l'Edoardo all'Edoardo ecco sei sei d'accordo ecco quali sono i sentimenti di fusione tra i due secondo te? Io credo che loro si somiglino molto io credo che quando De Angelis si è messo a leggere ha trovato tantissimo materiale per i suoi denti credo che loro si somiglino perché loro hanno una prima di tutto una visione del mondo che è simile e credo che lui sia stato felicissimo di toccare con mano quest'opera perché 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 loro si somigliano proprio interiormente si somigliano tanto Edoardo il maestro di Filippo aveva una un rigore che anche Edoardo ha una freddezza che anche Edoardo ha nonostante l'apparenza ed aveva anche come dire una invece una capacità di rendere semplice tutto quello che è difficile e questo era il vero genio di quest'autore cioè la vera genialità poi del maestro di Filippo era questa ed è una cosa sulla quale chiaramente agli autori fa impazzire no perché raccontare semplicemente il maestro di Filippo bastava una parola per raccontare un mondo beh questa è genialità appunto non c'è non c'è altra via secondo me ed Edoardo ah sì si è trovata a nozze anche è vero che ne vuole fare altre due adesso io non vorrei dire ma mi sa che ci dobbiamo sciroppare per un altro po' Edoardo ha detto in varie interviste ha detto sempre che il punto non lo può mettere nessuno neanche lui al massimo punto e virgola no e nel caso di Natale in casa Copiello forse si chiude con una libertà che viene donata anche anni non c'è sì è la libertà dell'ingenuo l'ingenuo che si fa prete prende questi ragazzi e li benedice li benedice perché sente che c'è un amore perché sente che c'è purezza in questo sentimento e l'ingenuo non può non benedire questa purezza perché se no sarebbe un folle non sarebbe più un ingenuo e quindi Luca Copiello che fino a quel momento era stato preso in giro deliso anche come dire no messo un po' ai margini di tutto proprio perché è ritenuto ingenuo in realtà è il più intelligente di tutti ed è l'unico che veramente ha capito che tra questi due ragazzi c'è un amore vero c'è un amore puro e lui vuole morire sapendo che almeno l'unica cosa buona che doveva fare l'ha fatto cioè ha unito queste due persone che si amano cioè ma cosa c'è infatti è iper moderno in questo senso no grazie Pina Turco per Natale in Casa Copiello e per questo incontro ti vogliamo bene grazie anche io ti voglio bene ciao ciao ed io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred da Festival Insider grazie a tutti grazie a tutti